Hai bisogno di proteggerti dallo spoofing, cioè dall'email committente falsificato e dal phishing? Aruba ti permette di utilizzare tre standard di verifica dell'autenticazione per aumentare la sicurezza della tua casella. SPF, DMARC, DKIM. Puoi impostare o personalizzare SPF e DMARC direttamente dal tuo pannello di gestione DNS. La firma DKIM è automaticamente inclusa quando utilizzi i server di posta in uscita di Aruba e non è personalizzabile. Vediamo nel dettaglio le caratteristiche dei tre protocolli. Il record SPF, acronimo di Sender Policy Framework, ti permette di definire gli IP dei server di posta e i domini che sono autorizzati a inviare email per conto del tuo dominio e di comunicare ai server di destinazione le operazioni da eseguire sui messaggi dopo che sono stati controllati. Di default sui domini Aruba è attivo un controllo soft sul dominio mittente per la posta in uscita, ma è possibile personalizzare questa impostazione scegliendo di passare a una modalità hard o neutra e può essere modificato dal pannello di gestione DNS del dominio. Per eseguire l'operazione accedi al pannello admin.aruba.it con lo username e la password, quelle collegate al tuo dominio. Clicca a sinistra su dominio e poi su gestione DNS e name server. All'interno del pannello individua la sezione record txt e clicca gestisci all'interno della sezione. Indica i valori che vuoi impostare e poi clicca aggiungi. Al termine clicca prosegui per tornare alla schermata principale. Quando hai finito clicca su salva configurazione in fondo alla pagina. Per esempi di personalizzazione del record puoi consultare la guida testuale dedicata al protocollo SPF. Il record DMARC, acronimo di Domain Based Message Authentication Reporting and Confirmance, sfrutta le peculiarità degli altri due protocolli, cioè controlla che la firma DKIM sia valida e che sia apposta con il campo DA uguale al dominio del FROM ed esegue un controllo SPF anche sul FROM, cioè verifica che gli IP dichiarati nel record SPF del dominio presente nel mail FROM siano validi anche per il FROM. Il record DMARC è un record di tipologia txt e può essere gestito dal pannello DNS con le stesse modalità indicate per l'SPF. Per esempi di personalizzazione del record puoi consultare la versione testuale di questa guida. Il record DKIM, acronimo di Domain Keys Identify Mail, è un protocollo grazie al quale si può verificare che un'email provenga realmente dal proprio dominio. I destinatari possono verificare l'autenticità delle email in arrivo abbinando le loro firme digitale alla chiave pubblica fornita da Aruba sul dominio. Come indicato in precedenza, non devi far nulla per utilizzare questo protocollo, ma ricorda che funzionerà solo se utilizzi il servizio di posta di Aruba, cioè se non hai puntato gli MX a un servizio esterno, e se utilizzi i server di posta in uscita Aruba. È impostato su aruba.it e non sul singolo dominio. Grazie a tutti.